Cinque giorni di chiusura delle poste di via Gramsci per lavori strutturali scoppia la polemica con il sindaco, i sindacati e il PD che scendono in campo. Il primo cittadino Luca Secondi in una nota chiede ai vertici dei posti italiani di aumentare le ore di apertura della sede all'ufficio postale di via Palmiro Togliatti al fine di evitare disagi all'utenza del capoluogo. A stretto giro rispondono i vertici dei posti italiani evidenziando come nei giorni di chiusura, scrivono in una nota, sarà disponibile nell'ufficio postale di Cerbara uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenze e operazioni radicate nelle sede di città di Castello. La struttura continua una nota, dotata anche di ATM postamat per prelevarlo, denaro contante ed effettuare altre operazioni, come il pagamento delle principali utenze dei bollettini di conto corrente postali, le ricariche telefoniche e le carte poste pay. Alle polemiche del sindaco danno manforte anche i sindacati. È inconcepibile e inaccettabile che la sede su Crusale sia aperta operativa a giorni alterni in concomitanza della chiusura della sede centrale cittadina, commentano in una nota Fabrizio Fartini della CGL, Antonello Paccavia di Cisle e Sandro Belletti di Will. Da tempo richiamiamo l'attenzione sulla tenuta e accessibilità di questi servizi. Infine non poteva mancare il PD che attraverso il capogruppo Jonathan Gatticchi afferma come la chiusura dell'ufficio principale dei posti italiani per una settimana a seguito di lavori è senza dubbio inaccettabile, inconsueta e fortemente penalizzante.